Il sicario vada a pomaglio. 9 PM Prova, 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 prova 1, 0 You are connected to the classroom. Dial 1, 1, 1, 3 Ale, mi fai una margherita per favore? 3 La licea pepera è pronta. Ciao, il veranda 7, Ivan. Ciao, il veranda 7. Vivo. Ancora? Vedete, sono pronta. Simone, possiamo far uscire già tutto? Vale, sì. Marco, scusami. Forse le di patatine, il veranda 1, sono 3 margherite. E' s'è no ma veranda. Sì. No. Tot se Galaxyku. Vivo. No. Alloranemo. Vivo. Nasa, lu between. Grazie a tutti